Che bella, buongiorno! Ecco il caffè! Sì, sì, madonna mia, ce le voleva proprio un caffè. C'è. Mortacci, chi è questo? Buongiorno! Buongiorno! Vorrei iscrittermi, quanto è l'abbonamento? Allora, guarda, se fai cardio, spin, crossfit, postura, l'aerokic, total body, gag, gym music, palca, film, videodanza, step up, sono 850 euro. E' compreso il corso d'inglese. E' pure simpatico. E' zitto. Sì, comunque sì, ho ben accetto. Guarda, Ale, l'ultima foto che ho messo su Instagram, me l'hai vista? Non manco like mi hai messo. Uno mi ha commentato, mi ha detto che c'ho qualcosa di angiolina e jolie. Sì, il senso dell'umorismo. E' pure stronzo. Iscrittemi, danno, forza. Allora, guarda, se fai cardio, spin, crossfit, postura, l'aerokic, total body, gag, gym music, fanca, pic, videodanza, step up, sono 850. Andannata. Ehi, ciao! Ciao. Aspetta, aiuto, aspetta! Ciao! Ciao! Tu sei qui per un dimagrimento localizzato? Sì. In che punto? Hai presente sto lembo di grasso sotto al braccio? Sì. Tutto il resto del corpo. Scusi, eh. Allora, questa è la scheda. Grazie. Senti, mi dicevi che ti sentivi pesante ultimamente. Sì, molto pesante. Ah, ma quanto pesi? Eh, non lo so, non mi sono pesato. Vabbè, dammi un range. Range Rover. Cominciamo con gli addominali. Subito. Si vede la tartaruga, eh? Ma veramente non si vede in cazzo. La tartaruga vengono piano piano, che c'entra? Dov'è? Bellano. Eh, dimmi, sì. Senti, fammi 10 ripetizioni d'addominali. Eh, addominali, 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 addominali Il ginocchio sulla scarpa e sta facendo male Non ci avevo fatto caso Io sì però Vai così, vai così, non mollare Vai così Mezz'ora Se riesci a fare un'altra mezz'ora, sei una grande No, a chi sto pensando che ho pronto soccorso a mezz'ora da qui Ehi Anch'io bevo ogni tanto s'integratoria Ah sì, anche tu? E che cosa usi? Creatina, arginina, citrullina Focaccina Vuoi un po'? No, 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 c'ho Che me guardi, eh? Me la dai? Oh sì, fino al mezzo a due, ti sei che a guardare facciola qua La panca Do fai addominali Ah, addominali Bravo, bravo, come va? Grazie Bene, adesso mi fai leg press, 5 reps, 3x6 shoulder press Yo, yo, bro Sghere Tup, 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 yo Mi piace questa cosa, sì Ma che sta a dire? Cazzo, sono tu, cominciate a parlare come Fedez Scusa che... Pup, 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 pup Pup, 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 pup Basta, tre minuti sono troppi Tre minuti è illegale Basta, se l'ho andata, se l'ho andata Ho cerato un po' il paccio e fa' sta cosa Basta, c'è, ma dov'è? Oggi voglio fare 3.000 km Livello 12 Però pendenza a Montevianco, eh? Ovvio Ehi, ecco qua Oi Titi, come va? Eh, bene, ho appena finito Ma com'è finire? Hai cominciato mo? Eh, lì sotto l'ho detto Fai 40 minuti Ma io ho fatto la buonamente di 6 mesi Me li spalmo, no? Che cazzo ho pagato a fa' Io ho finito, ci vediamo bene Ciao 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 Ragazze, basta per oggi Meno una Senti, ma Eh Ti sei ginoide o androide? Oh, ho un iPhone E' la forma del corpo A Mela o a Pera? Ah, Mela Ho un iPhone